Amici Trebi Meteo, bentornate a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà ancora nelle estreme regioni meridionali la presenza di questa zona di bassa pressione che si sta allontanando ma porterà un po' di variabilità all'estremo sud e intanto si avvicinano all'arco alpino le perturbazioni atlantiche. Controiamo intanto la nuvolosità attesa sull'Italia e appunto all'estremo sud ritroviamo ancora qualche nuvola e poi queste perturbazioni che dall'Atlantico cominciano a interessare l'Europa centro-occidentale lambendo anche le nostre regioni settentrionali. Precipitazioni, qualche piovasco, qualche acquazzone sarà presente all'estremo sud in particolare tra bassa calabria e Sicilia per il resto per ora poco da segnalare. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì bello in gran parte d'Italia con ampie già di sereno però qualche velatura inizia a farsi vedere al nord magari sulle Alpi anche qualche goccia di pioggia o qualche fiocchettino di neve a quote alte e poi all'estremo sud un po' di variabilità ma per il resto ripeto sole e temperature per il momento ancora molto miti. Per tutta l'Italia anche sui giorni successivi aggiornato scaricate la nuova app di Trebi Meteo. Grazie.